Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby e oggi per la mia rubrica Ruby il cinema voglio parlare di un film che sono andato a vedere esattamente tre anni fa, era il 13 aprile del 2012, quindi vabbè hanno più, hanno giorno più giorno meno. Qual è il film in questione? È Bellamy, questa è la versione in DVD eccolo qui, con Robert Pattinson, la Christina Ricci e la Uma Thurman e questa sinceramente non so chi sia eccolo qui, questo invece è il libro da cui è tratto, di Guy de Montpassant, è un romanzo del 1800 e qualcosa all'inizio non c'era biografia, comunque è un romanzo dell'800, di che cosa parla? Parla della ascesa di Charles di George Duruat usando queste tre donne, che poi diventeranno quattro. Lui è un ex comilitore, è squattrinato si trova in questa Parigi ricca, che vive nelle frivolezze, che vive tra i balli, tra il teatro, tra i ristoranti e un bel giorno lui incontra un suo ex comilitore, Charles Forestier, che è diventato un giornalista lavora per un giornale, La Vie Francais. Charles lo invita a casa sua, ha una cena e gli presenta sua moglie, gli presenta l'amica, Virginie, e gli presenta Clothilde, e gli presenta Virginie, che sarebbe la moglie del proprietario del giornale, del direttore del giornale. E da lì incomincia la ascesa, prima incomincia a lavorare come giornalista, aiutato dalla moglie di Charles, Madeleine, poi arriverà a sposare la stessa Madeleine dopo che il suo amico muore, e poi da lì incomincia la sua scalata sociale, che lo porterà a fare delle cose veramente assurde, e nonostante tutto la fa Franca. Io mi sarei immaginato che queste quattro donne si fossero coalizzate insieme, l'avessero mandato seneramente a quel paese con un calcio nel sedere, ma invece non succede questo. Charles riesce ad imbambolare queste tre donne e riesce nel suo intento, quindi riesce ad affermare la sua figura e a diventare quello che voleva essere, quindi voleva diventare appunto un aristocratico. La figura di George Duruat è stata interpretata da Robert Pattinson, che ricordiamo tutti per la sua interpretazione di Edward in Twilight, e penso che l'attore facendo questo film e facendone anche altri, abbia voluto scrollarsi da addosso il fatto del vampiro sexy, che poi io di sexy sinceramente non ce lo vedo proprio, però ha voluto insomma scrollarsi questa figura da addosso. Secondo me per fare la parte di Charles, cioè di George, non è assolutamente adatto, secondo me potevano usare un altro attore, anche perché è molto lontano dalla figura che è descritta nei libri, perché nei libri è descritto come Alto, mi leggo la descrizione, Alto, ben fatto, biondo, di un bionton gastano un po' rosticcio, con i baffi arricciati, che sembravano spumeggiarli sulle labbra, gli occhi azzurri chiari, bucati da una piccolissima pupilla, i capelli naturalmente ricci, divisi nel mezzo da una scrignatura, assomigliava proprio al cattivo dei romanzi popolari. Ecco, voi sapete che, come potete dedurre, Pattinson non è né alto né biondo né con le spalle larghe e non ha i baffoni. Penso che la scelta di Pattinson sia dovuta al fatto che poi le donne si siano innamorate di lui per la sua bellezza più che il suo fascino, perché nel romanzo le donne sono attratte da lui ma perché lui è un fascino, lui incomincia a raccontare le storie di guerra alla famosa cena e quindi queste donne rimangono affascinate. Queste tre donne vedono in George un punto di riferimento, una via di fuga per come succede a Clotilde, che lei vive in un matrimonio fantasma, il marito non c'è mai, la trascura. Un voler ritornare alla giovinezza per Virginie che ormai non è più giovane e ha comunque questo marito che poi non è neanche tanto attraente quindi voleva ritrovare l'ebrezza del sesso forse, di toccare il cielo con un dito e per Madeleine forse il fatto di poter evadere da una vita che a lei non le stava bene, forse era insoddisfatta di suo marito, anche se comunque lei era una donna molto intelligente, è una donna che aiuta George nel suo percorso da giornalista e forse avendo vicino Charles lei non riusciva appieno a essere se stessa, a essere intelligente. Come ho detto di Pattinson, le figure femminili sono di più di quelle maschili, considerato che le figure maschili sono solamente il protagonista che è Pattinson, poi c'è Charles che poi muore, poi c'è un altro, il conte di Vaudrec e basta. Quindi sono solamente tre figure maschili e cinque figure femminili, quindi questo film prevalgono le figure femminili. La figura femminile che mi è piaciuta molto è stata quella di Virginie, interpretata da Christina Ricci che ricordiamo tutti per aver fatto Casper e la famiglia Adams tanto per citare qualcuno. Lei è stata veramente molto brava, ha reso proprio la figura di Clotilde come viene rappresentata dal romanzo e forse è l'unica delle tre che lo ama veramente. Infatti lei a un certo punto del libro, quando poi arriverà il finale sconvolgente, perché il finale è veramente sconvolgente, gli dirà io ti ho amato quando tu non avevi niente, cioè io stavo con te nel momento in cui tu non avevi niente. Infatti l'ambientazione del nostro caro George è una bettola con un letto che è posato su una rete tutta arrugginita e poi c'è questo topo che poi poverino è venuto ucciso, che non ha fatto niente poverino. Uma Thurman mi è piaciuta anche molto anche lei, è una... non penso che la Madeleine del libro avesse più o meno la stessa età, perché comunque tra lei e Charles si passano dieci anni, il libro questo non lo dice. Però devo dire che è stata veramente molto brava, mi è piaciuta, si è calata veramente nella parte e... solo che, non lo so, penso che ci doveva essere un qualcosa in più, ci doveva essere secondo me un valore aggiunto doveva esserci più... non lo so, un po' più un qualcosa che l'avesse resa così. Perché in alcune scene veramente l'ho trovata molto piatta, l'ho trovata molto... molto spenta, ecco. Soprattutto poi nella parte finale, quando poi il matrimonio tra i due non va bene, ecco, ve lo dico sostanzialmente come spoiler. Ecco, in quella parte lì l'avrei voluto vedere più pathos da parte della Thurman, però tutto sommato è stato veramente un... una bella interpretazione. È un film veramente molto bello, a me è piaciuto tantissimo, anche se la scelta comunque del personaggio principale che doveva essere fondamentale, ovviamente per la ricostruzione, è stato un po' fatto alla cazzo. Ecco, io avrei preso più un... un... un Daniel Craig, che è l'uomo bello, maturo e anche affascinante, no? Proprio è... è l'uomo... è l'uomo che ti... che ti affascina. Invece Pattinson è più l'uomo che ti prende perché è bello. Ecco, quindi è un po' quello che ha voluto... ha voluto dire il romanzo. Le ambientazioni sono veramente molto molto belle, nella Parigi ottocentesca si vedono questi bellissimi costumi e... e niente, io vi consiglio di guardarlo perché è veramente veramente molto bello. Leggete anche il libro, io l'ho finito in pochissimi giorni, in cinque giorni l'ho finito, perché è veramente surreale. E proprio la bellezza del libro, la bellezza anche del film, sta nel fatto che nella maggior parte dei romanzi sono le donne che, diciamo, imbambolano l'uomo e gli fanno fare quello che vogliono, no? E comunque le protagoniste sono sempre... sono sempre donne, se consideriamo il panorama comunque dell'Ottocento, dei romanzi dell'Ottocento. Partendo per esempio, che ne so, da Elizabeth Bennet, Emily... eh sì, ciao, eh sì, Emily Bront. No, la Bronte, l'altra, la sorella che ha scritto Jane Eyre, passando poi per una carienina, passando poi per Madame Bovary. Ecco, quindi questo è il primo romanzo dove il protagonista è maschile. Ed è un protagonista che riesce in qualche modo a usare, perché fondamentalmente lui usa le donne per arrivare al suo scopo. E queste donne si fanno... penso che ci sia una consapevolezza da parte loro del fatto di essere usate, ma si vede che a loro gli fa comodo. Così. Bene, se non avete visto il film, leggetevi il... sì, leggetevi il film. Come si fa a leggere il film? Cioè, guardatevi il film, dopo però avrete letto ovviamente il libro. Fatemi sapere se il libro vi è piaciuto, se vi è piaciuto anche il film, come l'avete trovato, come non l'avete trovato. In ultimo, PS, no, post-critum, ci sono scene molto erotiche. Era per dire questo. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta, sempre qui col piccolo Ruby e sempre qui sul mio canale. Ciao! 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 Grazie.